Sotto la cupola frescata dal Bibiena ci sarà la cosiddetta agorà poetica della contemporaneità. Il presbiterio barocco, invece, farà da cornice alla collezione di volumi storici esposti su scaffali e librerie rigorosamente trasparenti. Rinascerà così l'ex chiesa di San Cristoforo all'angolo fra via Genocchi e via Gregorio X, che presto verrà inaugurata come nuova sede del Museo della Poesia di Piacenza. Il taglio del nastro si terrà fra i mesi di aprile e maggio, ma negli ultimi giorni, per predisporre i lavori di adeguamento e arredo degli spazi, Questo scrigno artistico e architettonico è già stato riaperto. Il direttore dell'ente museale, Massimo Silvotti, sta preparando infatti il progetto di valorizzazione dei locali. Qualora la sovraintendenza desse il via libera alla proposta di mobiglie e mensole del Museo della Poesia, i nuovi lineamenti della chiesa sconsacrata in centro storico potrebbero essere questi. La parte circolare è quella relativa alla contemporaneità e noi la chiameremo un'agorà della poesia contemporanea. All'interno di questo spazio verrà collocata una grande installazione con al centro un'opera d'arte di un artista tedesca e qui saranno collocate gran parte della collezione museale attuale con i grandi del Novecento e non solo. Manca ormai poco, quindi, all'inaugurazione della nuova sede del Museo della Poesia, che fino a pochi mesi fa rischiava di chiudere a causa dei costi d'affitto troppo alti nella sala espositiva privata di Via Pace. Grazie a un'intesa fra l'opera parrocchiale, la Banca di Piacenza e la Fondazione di Piacenza, che vigevano l'ente è stato salvato, ottenendo una sede ancora più prestigiosa e potendo così dare inizio a un nuovo corso che combacerà con l'apertura al pubblico di questa chiesa sconsacrata caratterizzata da una cupola prospettica affrescata nel 1690. Siamo nel 1690 quando il Bibiena decora questa cupola, e precisamente nei mesi estivi, tra giugno e luglio. Lo fa immaginando appunto questa architettura dipinta che conferisce davvero grande spazialità, grande tridimensionalità, proprio proiettata verso l'alto, verso il cielo.